Buongiorno e benvenuti al Salone del Mobile 2012 allo stand Parma Divani by EF di Salotti. Vi presentiamo in anteprima i nuovi prodotti della collezione 2012 e cominciamo con un modello che si chiama Home Cinema. Questo modello è pensato per un'utenza molto giovane, diciamo. Ecco via, vedete tutti i colori dei nostri tessuti che potrete scegliere in una vasta gamma di tessuti e di pelli presso il nostro showroom a Sala Vaganza. La caratteristica di questo modello è che è un modello modulare, nel senso che è composto da moduli separati che possono essere facilmente staccati per arrivare a conversazioni. Per esempio, una parte all'altra del divano potete conversare tranquillamente girando comodamente la vostra poltrona. La caratteristica di questo modello, oltre alla versatilità delle composizioni, è anche una caratteristica di praticità. Per esempio, noi staccando la trapunta che copre la seduta abbiamo la possibilità di sfoderare soltanto una parte del divano. Di conseguenza, noi potremmo comprare per esempio un divano con una base tutta in pelle e cambiando semplicemente la parte superiore della seduta possiamo addirittura cambiare il divano con tutti i colori che vogliamo, anche due volte all'anno. I nostri divani sono fatti interamente a Sala Vaganza in provincia di Parma e vi invitiamo al Salone del Mobile di Parma, presso il nostro stand e allo showroom di Sala Vaganza per scoprire le ultime novità. Grazie.